e bella a tutti bronzini e bronzini siamo di nuovo al bronze scherzo ragazzi siamo alla prima puntata del followers deathmatch il mio compagnia c'è fracker visto che il primo video vi spiego bene come funziona al volo al volo in pratica io ho deciso di fare questa rubrica per convolgere tutta la community league of legend quindi tutti possono giocare dagli arranche dai bronzo ai silver a diamond challenger ai coreani chiunque non è escluso nessuno lo spirito di questo gioco come vedete avete visto la chat già siete carichi i bronzini buona fortuna rega è divertito avete un game che verrà caricato su youtube ogni venerdì alle 2 scusate la tosse ogni venerdì alle 2 quindi sarà un game di puro divertimento una cosa per riunire un po' la community io e fracker ti faremo una squadra una squadra è diversa mentre il bronze time ha un commento un po' più neutrale qui proprio ti faremo noi ci schieramo ci schieramo e ci divertivo e cercheremo di farvi divertire tutti possono partecipare uscirà ogni lunedì il post sulla mia pagina facebook che trovate in descrizione lasciate un bel like e adesso partiamo allora io mi prendo la squadra a quale? a rossa perché vedo il jungle aggressivo a rossa ma gli diamo pure un soprannome certo io gli amico come riguadrati ma come? ah perché sono rossi perché sono rossi e io li chiamo i erbicio team che può essere interpretabile e anche se non è il bronze time io ti dico una cosa ci hanno una spiegampata da parte una roba comunque sono un po' emozionato è un po' come il primo giorno di scuola la nuova rubrica la nuova cosa dai ragazzi l'importante come abbiamo detto l'unica cosa seria è che questa rubrica sarà di puro divertimento e solo a scopo dei fondi divertenti e devi davvi un po' di spazio ma stava asciuttando no fix a casa fix sta a prendere misure fixalo moglie da forte insomma dicevo ragazzi l'unica cosa seria è che attenzione se ne arriva se ne arriva ma qua già è fegato vabbè non è concesso il flame ragazzi in questa robina di puro divertimento ragazzi sono stati avvertiti che chiunque farà flame o creerà problemi alla community sarà allontanato semplicemente all'attività ma dov'è il tuo support il mio support è magico visibile hai una tattica lui sta fa a livella la dc fa a livella la dc e qua non si aspetta vai viz ingaggia fai così pizzicagli il culo col forcone senti sportiva non mi piaci ragazzi stiamo scherzando cioè noi dobbiamo chi fa ragazzi è come se vanno a vedere una partita da Lazio io sono simpatizzante manco piace il calcio ma pure loro non ti fa però fateci sapere ragazzi fateci sapere nei commenti se pescherai da la squadra mia o la squadra di Staschi e la squadra di Staschi ma poi la pizza è carico da solo pizza sta a prendere dai non è vero non è vero la mia rival è molto più carica fai Gorkhi fagli vedere che uno contro il due sarebbe il mamma mia l'avevo detto che era se ne va il mio rinocerontolo l'avevo detto che era aggressivo però l'inscrack smetti di chattare di stare su chat e roulette e tornare però dai finchè una FK squadra si può fare certo magari giocate lo nostro deathmash vabbè ci hanno avuto problemi penso ci hanno problemi si sono prenotati al post sono stati estratti con oltre 200 commenti si sono presentati a quest'ora perché ricordiamo noi stiamo a fare in pausa pranzo ragazzi il tempo è quello che è il tempo è quello che è cioè noi stacchiamo il video e ritorniamo a lavorare e eccolo è arrivato è carico dicevo quindi non è che lo fanno apposta poi non partecipare oh non me lo scappa mamma mia l'aveva preso eh tu stavo così per ammazzare dai dai ci scommettevano ma non sono presso swap fanno mamma mia a parte e swappano e swappano vai minion menategli non c'ha più mana io gli ho anche minion da mia ma non c'ha più mana no è tornato pure ma che so insieme ma lei che so una coppietta tipo c'erano 7 quelli sono coordinati mamma mia a parte riven fast engage non mi piacciono non mi piacciono non mi fido mi potrebbe ammazzar pesce ah dici per quello ammazzo il pesce ammazzo il pesce pare brutto ecco attenzione la gank antisportiva non era portato l'altro gank però vieni a shivana come segue bene si si lo sa era già in posizione pronta c'è guarda tu c'hai giocato con 0 million ma è arrivato blitz vediamo se grabba è appena tornato sto a scherzare attenzione ecco lo giocato vai no no che scorrettate no mamma mia se le prese tutte fino a fondo la sfettiva ma così tu vai cioè per essere antisportivo ma io c'ho curato la torre quindi con me c'hai curato è player in più vale 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 pizzi però il regista dice ma si per ora è una situazione le cage vai pizzi una situazione proprio quasi di pareggio guarda come la stitta è fiero mentre la stitta ragazzi voglio bene pure la squadra 2 no no ti rischierà voglio bene ma no io in questi questi minuti non ho hai ragione durante la partita non me voglio bene poi quando le criticherò in modo bravino tutto il mondo si perchè non dovete uccidere la mia squadra non vuoi così eh no scusa se io ti fa una squadra dove ti affine che mai lo ti fa riven riven zafiro 91 io punto molto su sto zafiro 91 si studia lo vedo carico si guappano si guappano si guappano fai il sartino ma maia questo rega se giocate nella stessa squadra vi prendono la cuore al fai ma loro giocano a lol sincronizzato che è un po' uno sport a sé due terfini fanno solo cose così acrobatiche più scienzi tanto sono passati 6 minuti ancora c'è stato il fizzlord giustamente ragazzi se il bronze diamond si aspetta il mercoledì 2 ci stanno gli dive ignoranti così loro giochiano e il gank ancora il sattivo preventivo la mia riva e non serve loro cercano di giocare un minimo seriamente giustamente la loro opportunità vabbè ma poi qua piace a tutti abbiamo detto possono giocare a tutti quindi non abbiamo neanche visto infatti non è che devono giocare a trollao per perdere se hanno giocato e vince perché piace a tutti vince però l'importante è accettare anche la sconfitta non si flamma non si flamma magari con questa rubrica riusciamo pure a fare nuove amicizie su lol la gente si conosce inizia a giocare insieme perché noi non prendiamo solo commenti dove c'è oh attenzione il gag a 6 è anti sportivo lo dico però non fa niente però è mio quindi va bene però è mio quindi va bene la stessa ma le dire no scherzo non è anti sportivo però oggi stai ti fa capì che un po' di vantaggi ah magari ma vi esce sotto d'ore che tu vuoi far sentire tutto jokat vabbè mo vedi Cocchi è carico ti è come l'ha stitta Cocchi intanto supera fame è stato 1 contro 2 ma è vero dove lo concede c'ha più farm la tua squadra ma intanto fermi io ho sbagliato hai sguappato tutto strano mi hai messo però c'ha più farm si perché giustamente da me è crashato il support dato del top questo lo ammetto eh eh vabbè magari che esce dal Cescuglio fa un po' di zoning i bambolini la botta è scegliere un regolo un po' strano si proprio in fase di push sotto torre fai gli uscire il dono fai gli uscire il dono è l'albero azzurro attenzione il jungle è dai due regali regali veri secondo te se saranno allenati? non lo so cioè io poi gli chiedo se secondo non so se si sono allenati questa partita forse è un pochino dai se estrazione ha preso praticamente due squadre già di amici cioè il minimo stanno giocando perlomeno penso stanno a giocare il main il main il main il main lo vabbè tutti c'hanno un main ragazzi attenzione invece è partito se ne va se ne va il salto è un po' aggressivo un po' aggressivo ma non ha preso neanche il litro di torre quindi era buono ah modifi miei che era? no era buono eh completamente era buono no tu ti ritrovi la scusa per dire che era buono attenzione bravo fizz e la blocca la mia diven bunni eh eh ma che è un po' il vero albero questo è peggio dell'albero di pocaotta se è invasivo ahahah cioè l'albero di pocaotta se è pocaotta si vuole andare a dormire a presto e l'albero che ti parlava ma che cazzo attenzione si prende la torre vai bish team bish team bish team bish team ahahah no no vincone con come riguadrati sta porca bish qua sborda e se ne va una signora una signora una signora sejuani attenzione c'è la gank eh riguarda un po' difficoltà il mio pesciolino sta pure canter gianglando sta al 5 eh sta pure canter gianglando attenzione fizz ingaggia ma fizz guarda guarda lui non li teme riven dai concretizza qua che io ci credo in te faccia sto pallonetto pure il blu gli si sta a fregare io l'avevo detto che era aggressivo sto tutto c'è more fin dalla giunga no c'è la smart ma fin dalla te pensa che io non scergo a gente a caso la vista il potenziale che sta scivata mo se ganka però no se ne va va a morire coi cose ma quante world c'hanno botti tuoi un valio ma che sta a dire c'hanno la roba che fa la guerra c'hanno zoning loro fanno map control ma che ne sai attenzione parte ma kai qua però ha fatto il 6 il mio gioco a te ma tu lo pappa ha fatto il 6 il mio gioco a te nooo sbagliata ci sei attuffato il flash il flash l'ho bloccato l'ho bloccato l'ho bloccato scappa fizz faglie male ma che fa male deve solo che scappa diciamo che rive con la sua peccane che la sei rituffata dentro si è stato un po' così si niente sta fizz ce la fanno tuta sta a giocare guarda ma ok fai glielo fai glielo il pugno fai glielo il pugno vai sottotore vai sottotore barrigate barrigate ci farà vedere un bel grab sto blizzo tuo eh si è diventata ma magari sto sbattando i miei bambini bambini mamma galli si incontrano si incontrano parte il fight mamma galli l'ha squagliato danno vero ma che cosa sta vittando questa scivana non lo so a grattugia a grattugia vai vai tira gli sti cannocini tanto pingano in blue se ne so accorti che il mio jungler si è visto i miei tutorial su quello jungler e gli ha fregato tutto però era tutto stabile che lo ha sempre detto in solo chi non in team in solo chi volete salire a jungler andate in line e fregate i ragilli i miei tutti e vinci tutto e poi devi carriare cioè eh poi devi carriare attenzione eccolo la guy sento la puzza di peaceblood scappa il pugno la gomma al contrario vai l'avanti vai gli cazzotti vai gli avanti scappa vai gli sturti dove vai attenzione non concretizza è così confuso da colpirsi da solo è pronto il grab c'è la canna è un pokemon e poi mamma mia ci riprova ci riprova la pizza riven ha capito che fa danno è un po' dritto scivana un po' bloccata arriva non è il primo salve l'avevo detto è buttato sul pesce va così ragazzi andiamo a berlino è buttato sul pesce mamma mia ha laggato scivana ecco perché c'è stata quella cosa affatto ragazzi io l'ho detto cioè perché pubblicizzare pro player quando posso pubblicizzare i prodotti italiani e il pesce attenzione da gac va pianissimo schiappa corri metti il nostro che ti fai i convergenti sei ingolfata sejuvani che succede mano hd gamer ricordiamo che chi è è il leader del team ah ok è il leader del tuo team del mio del piscio team il mio invece è maokai il cocomero dei cocomero quadrato i cocomero quadrato insulteriamo dove c'è tanto mi stavo pure impegnato ma è così io ragazzi attenzione i ragazzi sono allora questo video uscirà ogni venerdì ogni venerdì eccetera ho già detto però c'è una mezzata tempo perso se faccio gli like se li metto nel secondo canale mi potrebbe piacere la cosa mi potrebbe fatemelo sapere nei commenti ovviamente lasciate quello in like al secondo canale mamma mia salta mamma mia sul tagadà tagadà la situazione veramente stanno a gioca bene stanno a gioca safe c'è solo una kill questi due k ancora di vantaggio che diventano tre adesso e si la tua squadra per ora la mia squadra mi porterà la vittoria mi porterà la vittoria ma tanto io punto su su late game tu sei forte sull'irli ma vedrai vedrai ti stupiranno i miei ma probabilmente mi hanno visto i tutorial ti ho detto mamma mia ancora veduta la forza dei bambini ti è vai così tanto sta a crescere giocat eh ricordiamo ha avuto anche lo svantaggio di stare afk non è vero non mi ricordo niente ho passato 15 minuti ho rimosto sa come una ram il support afk ci va non ha paura giocat lo silenzia il bambino è un altro gatto qui no un altro link si stanno a dare non aver paura non aver paura non aver paura anche il calcio di rigore batti sto calcio di rigore c'hai scivana che sto minion però c'ho che cosa si sa vedere un attimo le buglie si sono abbastanza aeeeeh mamma mia è pronto il venerdì santo fai così fai male dai che le dai con lo scudino lo scudino si salva si salva grande riven no c'è non c'è c'è chi è il lato aguita kill mamma mia però c'ho due livelli sotto ma io sta davvero cioè guarda ma che stanno a giocare a parte scherzi a parte il tutto a me sta a piacere come stanno a giocare tutte le squadre ci sono bravi si 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 stanno a impegna tanto è notevole poi noi dobbiamo trovar per forza qualcosa che non va giustamente uno da una squadra e uno dall'altra però è difficile anche trovar qualcosa che non va stanno a giocare bene mamma mia silence ma so quanto leva oh c'ha provato leona provato ti hai visto vissi e che andrà preso linskack mamma mia mamma mia mamma mia va così spara a leona si salvano si salvano arrivare io quanto so forti eh bitch team eh certo fortuna eh quando lasciai vissi c'ha sfavore il vento ha visto che arrivano tanti bitch team bitch team ahahah perché è stivo allora se sta rubrica va bene poi noi invidiamo anche i ragazzi pomponna a ti fa' dietro le loro pomponna 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 pompom pompom mamma mia prendono la torre ehm la prima torre va giù pure quella è caduto su di l'armister son morti ragazzi son morti si vai fritz sei carico io credo in te c'hai lo squalo vai gli mani a sta frittura ahahah dai fritz dai lo squalo attaccalo secondo me è riven che attaccami eccolo l'ho detto guarda la frittura il flash riven è un po' un po' intimorita intimorita però c'è magari a parte magari è regolata la vita però attenzione qua secondo me potresti anche perderlo questo questo trade drop top drop top ma mai è il drago che si fa il drago cannibale ma è così cannibale una madri osca del draghi lo smite l'ha fatto apposta smita male dall'ultimo hit capito? non di niente eeeh perché? ma che le osca! ma che le osca! grande giocat! nooo io ci credevo in te grande così si fa no gai uno pari balla al centro 4k di vantaggio ma dai un drago avanti ma tanto recupero ci comprava la riot questi 4k ci comprava la riot e qua Giaya sta una ruba a Hunter Gianglanda la giungla cioè si impegnano pure il botto mi pare giusto pure i tuoi si impegnano la giungla ora sei giovani sei giovani ti hai ciao il grande fratello o giungla? si la vedono tutti pure in diretta nazionale che pregano la giungla a tutti fatti guarda allora mamma mia pizza sai che c'è l'ultima i tuoi dai che sta l'aprittura mi sta girando la testa mi sa che è pure che inizio a mangiare un po' di più mamma mia ragazzi ma gai mi emoziona pure sta rubrica e mi sto divertito a morire c'è finita c'ho due rubriche da paura che ho fatto mamma mia guarda però ma gai guarda come far ma fiero che preoccupa ma gai credici esatto ciò torna con una bella crisi quei 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 53 milioni che c'è in più infatti onestamente onestamente con un half ma intanto se l'è pappato quindi ecco guarda non fa niente è come Machinbu ovviamente non ve la prendete a male se commentiamo difando la squadra no ma ragazzi lo sanno lo siamo affatto uno lo ridice perché comunque vi vogliamo bene a tutti poi certo uno se se fomenta la squadra propria certo dai lo sanno lo sanno è fatto apposta di divertirsi è l'unico modo che divertirsi e qua il grande fratello offline è tutto dalla casa ciao Alessia è tutto non so intanto sti 5.000 quanti vantaggi e qua la banca cresce 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 stava bravo intanto vanno tutti i bot attenzione tutti i bot è vero? però c'hanno una wallina no non c'è cà ta la libera l'ultima la tira l'ultima attenzione la tirata arriva anche le ore partono tutti vai rigrabalo rigrabalo dove? sta manganza guarda che missili che arrivano ma io sono 4 una squadra di carcetto il bot se ne va arriva e torna tutto normale e torna normal la normal quanto è grosso quanto è grosso il mio chocart ma inizia ad essere veramente grosso l'ammetto eh dai safiro 91 finta te c'ha pure il blu spamma un po' dai oh sta dai ragazzi noi l'abbiamo fatto apposta non guarda le rune nell'elo ragazzi perché proprio non ce ne importa niente si anche per differenziare un po' dai ha tirato apposta l'ultima c'è vedi? è un esibizionista è così che mi piace a noi c'è il cd redaction noi l'abbiamo fatto apposta e fa gioca tutti sta rubrica anche con il bruntime che piace a tutti è la rubrica più seguita di tutta l'olitalia e ora è più in mezzo ma avete sempre chiesto però come favore non ha gioca perchè sono i bronzi eh e ormai ma abbiamo buttato un mezzo ragazzi sono inguagliati ormai sono cavoli vostri dovete gioca tutti dovete gioca tutti voglio pure Obama ancora il mio chocart non do non do intanto artro blu portata a casa artro blu shivana decanter jungling annaggia però è vero il tuo jungler è subito hai visto? dal suo movimento iniziale ho capito che era un jungler buono è vero te lo devo concedere la mia l'autogunca ciò cazzo si autogunca si autogunca ormai è diventato questo ti fa capire il diventato troppo grosso attenzione intanto prendono la mid però sono 3 contro 3 mid dai proteggeranno questa torre no dai leona vai torchi buttala giù gliel'ha data stavi eh tre torri a zero maledetti 31k 24 tre torri a zero e manca a scacchi ma è così davvero è fatta ragazzi sbrigatemi che tocca torna al lavoro ci cacciano ci cacciano male c'è proprio 34 quindi sbrigatemi no scherzo ragazzi cioè no non scherzo è relativo o scherzo è vero però tanto ci è stato a sentire quindi boh a parte una spedizione punitiva verso un bot eh tipo ma vai a chi hai cosi arancia meccanica dobbiamo regolare i conti vai corchi vedi corchi vedi c'è la corda l'ha visto parte il ping blitzkack se ne va vola la aeroplani papà mia monno lo vogliono il flash il flash ha volato maniera ier flash volo veramente è arrivato un se sa dove ha preso il diretto vediamo quando perde tempo a 4 persone andate a vuoto e qua c'è il break 50 secondi al tramo se vanno manier pesce dai oh fa bene il pesce c'è l'omega 3 l'omega 3 ma che ha tutti i soldi tutti i soldi e no mo i 5 mid scivane e pizzo a difesa e qua se fucinano se fucinano se fucinano se fucinano mi ricordo mai attenzione il teleport riescono a difendere il pesce il pesce che fanno il dinosaurio il grab sulle ola mamma mia ma che gli hanno fatto ma dove vai vai sei l'ultima speranza che struttile cacciagli è toto flasha blocca dal muro valla via ed è finita così mi sembra proprio che che è successo amico no ragazzi che è successo questa ci voleva ma vogliamo fare un ace vai questa ci voleva regà dai Gino Pilotino questa è un ascolto questa è un ascolto dai vai Corky ma ti aiutare la torre io l'ho detto ma guarda Corky ti mancava Corky se no era vinto sto file dici a voglia ah mi pare di no ma vanno per il drago vabbè dai il primo drago c'è sta il primo drago il primo drago non si scorda mai questa era bruttissima regà io vado adesso nei commenti tutti quelli che hanno fatto la squadra dei fracker solo per quello che ha detto ma hanno fatto bene a quanto sembra il proprio dal canale sai tu che punti sui i cavalli sbagliati non è vero ma ora vedete che ribartone te lo dico io ma ribartone è questo il tuo era era veramente già dominio ma la mia te vai dagli sta wad fagli buttarsi i 100 euro vada a spencer 101 euro dude shivana master of jungler ragazzi dai formazione a testugine stavolta che dietro corchi che ribombarda e pesce che sguorda oh a vink eccola questa la vista a vista si all'occhietto e tensing e bot guarda gli avete dato una bella possibilità di farm a bot perché pushando i miei bot farmano ragazzi è tutto tutto così sono una serie di errori arriva il drago arriva il gang controllato la tenereis parte il gang ma shivana c'è il redder oh oh un po' di poti sei accattato non sanno più che fare attenzione che la sta immischiando il nostro joghat e li prende tutti i po si fa assortare ma shivana il teleport il teleport il teleport non è annullato il flash di trovare una paralizzata il flash lì anche shivana parte il fight il flash lì ora si lancia mamma mia guardiamo kai ma che ce n'è oddio mamma mia mamma mia bitch team anche il milione il troppo ha annullato il flash vai deglier pesce che azione che azione mamma mia che azione mamma mia ragazzi ecco per chi amo la community italiana che azione perchè sono più forti dei coreani abbiamo visto di tutto un gunk un teleport un'altra volta che arriva la squadra a salvare flash grab mamma mia complimenti ragazzi perchè nei followers deathmatch il grab annulla il flash proprio non è addirittura il tempo è addirittura è così tu prendi grab e torni indietro mamma mia e mo' una bella sonata è nuovo 6-4 si sempre vantaggio anche in gold torri e tutto blu e laguna 90 smitragliano smitragliano tutto e qua l'ennesimo blu che ci lo portiamo a casa ma gli lasciate un blu vai peppe non gli lasciate niente dai vi prego vi prego poi la scivano c'è sta blu per vuoi mamma mia e il buscione lo vogliono potrebbe partire l'ennesimo fight loro alletta mamma mia il pesce vai che è il venerdì santo ma non mi puoi fesceccare così ciò cat e invece si non fesceccare soprattutto se sai che sta lì il tiro ma io voglio fare un applauso anche ai tuanti carry che si sa visti di poco infatti ma si stanno a farmare tantissimo si è vero sono quelli un po' più si mamma mia ma farmano tantissimo eh 2.25 2.35 è un buon farm 26 minuti è buono mamma mia oddio scappa via rubanino gino pilotino ricordiamo ci ho avuto paura per un attimo ho tremato eh dopo che mettete prima so che quando incano potrebbero fa male cosa succede tutto è come a nigeria più a 10 cose ma quando se cazzo inizia a correre contro piede ti segna perché potenzialmente sono pieni di ciccini i miei quindi sono bei 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 problemi e vabbè quanto li misseranno ne so sicuro ma cosa? cioè c'hanno riven senti la squadra rossa è la mia per questa mattina i tuoi devono misserà e poi che se compra tutte queste minche? che stanno a barassi stanno a giocare le scieze venga tutte pink bravi impegnatevi artro blu artracore tutti i rostri blu e qua sbordone è intanto 34 6k gold di vantaggio più o meno è tornato un po' un cucciolo il mio giocat è piccolino è piccolino si è ritirato l'antirex è diventato un actor sei un attimo è ritirato che è il freddo? no non è possibile con sto gallo mamma è battute oh scusate non era neanche una battuta è neanche una battuta no ha ripreso vantaggio vende farm vedete poco ma l'ha ripreso Maria Fitz tutti i bot di nuovo bottone hanno deciso che il loro campo in battaglia sarà lì si attenzione arrivano anche i rossi Fitz non li vede invece? scivana con la bolla salta via scivana con la bolla che comunque sarebbe in vantaggio quasi fa se grabà non capisco questa bolla se Giovani si nel senso se la prende non potrebbe cioè non è neanche troppo male intanto un minuto e dici al drago si incontrano attenzione si incontrano 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 C'è il teleportop, il pushone, 26 secondi al strato, sei rigirata un'altra volta, quante sorprese in questo follower that mesh, è stato un professor Fitz ha costretto Viviana, ma chi è? Viviana è un pupazzo nuovo, ha costretto Wayne, ha flash house a tutto e poi shivan è arrivata se è trovata venne in faccia e pure sta venne, eh non può fare niente no, almeno che non c'è un muro per inquadrare persone, vai Corky, buttagli giusta torre, e tra quanto c'è Starblu, non lo so ma tanto sarà sicuro tuo, ormai c'è avete due giungle, e voi sapete tra quanti più se facevano, tra quanti Team Mamiro si faceva, oddio, mamma mia, che cos'è? Eh? Si è spostato, si è spostato, ok ho capito, mamma mia, altra cosa, 2 a 1 ragazzi, ah hai ucciso il dago, voglio un altro fight, mi è abbastata la lezione, ah ma gliele panno da, purtroppo non sta in vantaggio, anche lì build, sono carichi, stanno a studiare tattica secondo te, eh, si, anche però mi piace il fatto che li vedo compatti, li vedo compatti, si vede che siete un team raga, e pure per questo che è bello perché probabilmente siete abitati a giocare insieme, quindi è uno spettacolo che deve, si mi piace il fatto che... Eh vedi questa cosa che, per quello vi abbiamo chiesto dei taggai amici perché è meglio vedere un team di persone che si conoscono, che sanno giocare insieme contro, è bello. Qua bot, intanto, in tre, pushano un po' le linee. Guarda, guarda la torre, solo la torre non l'hai fatta voi, eh. Eh che dove va? Ah ma che pescetto! Rimane là, gironzo, lasce lo squalo. Eh cavolo, lo mo' bot? Vai o scivara, eh o scivara si ritrovano una marea di schiacche adesso. Eh non l'ha presa. Dire da voltato? C'ha pure, c'ha pure lo spadone, ha tirato a random Riven, ti voglio bene lo stesso. No look. No look. 360 MLG. Vai grabbali! Anzi no fregatene, non grabbali, difendete. 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 Ma questi muti entrano tutto quel toretto, te lo dico io. Ma infatti i rossi dovrebbero solo difendere, usare skin shot sui million. Eh ma c'hai mua che sopra e loro sono tutti, eh. Appunto, appunto. Eh ma io voglio invece che succedere proprio il macello sottotore voglio. Mamma mia! Tanto ce l'aveva bollante. Gli ha tolto i pudande. Gli ha tolto i pudande. Ravinata. Ammai ci prova, non li temo neanche i 4-8-5. No. Giustamente non voglio il ricordo. Infatti magari che pusha. E però guarda che se André si va a frega al blu, è un rito ormai. È un rito. Parte l'hashtag frega al blu. Parte anche la squadra rossa, inizia a entrare in giungla. C'è il teleport. Ma magari inizia a frega al blu. E Rivan se va appaduto. E tante i red split pusher a bot. Tutto questo per attivare attenzione, per mettere l'ennesimo blu. Sento me solo per questo. E tutto il gire intorno al blu. Tanto tu magari si sta facendo ovviamente. Giustamente. Mamma mia. Non mai la zonia. Paraggressivi. Oh. No blu. È pazziato. È pazziato. È pazziato. È pazziato. Il flash. Viene stunnato Pizzo. La blocca. Attenzione Pizzo mamma mia. È la zogna. La zogna. Il drago. È il drago. Il drago vattene. Oh guarda che hai preso un po' delle pizze. Ma chi è ci siamo fattiatori e siamo morti. Però. anche voi hai rischiato non è vero non ho visto niente da stralito c'è stata un po di confusione generale ma fa sempre bene a quei momenti che paga i periodi per papà nico ma non è molto attenzione lo blocco e di me da andare via ma è così gino di l'ordine che può tirare l'ultimate però mi sa che non gli fa abbastanza da fai così è saltata cantina lo tocca c'è l'ultima da lanciare papà via eccolo Pizze te lo sei bagnato fai così fai vogai cacciagli e dono fai glielo senti ma hai macellato pure leona è finita ragazzi papà via Pizze guarda che reattività gioca l'antidomi che la vita la butta giusto riosauro si fa poi il mio e se ne va anche lui ma non vale ma io non posso mai vincere nulla ma secondo me tu tu vai tv una squadra per perdere non mi fare passare quello che porta a sbagliare il maratio perché c'è fede ma non è vero ma non è vero non ma pioppa cose che non so se ci rimango mai vedremo la prossima partita non è ancora finita questa ma io vedo soltanto la fine per i miei cocomeri quadrati vince dim vince dim e blu altro blu altro blu stavo sempre furbata la cifra vai Pizze qua servirebbe un miracolo un crash un dos un crash d'os dossateli scatenati i dos i dodo i dodo scatenati i dodo e poi ragazzi sta cosa del dodo gliela spieghiamo in pratica io ho giocato magari da giovedere che era l'albero azzurro quindi dicevo sono l'albero azzurro e che usciglia proprio dai pantaloni quando me lo occhiappettavo tra virtù del regolo comunque la cosa voglio dire mentre visto che tanto c'è l'attiva calma allora è uscita sta cosa del dos ariotta c'è sempre avuto i server che facevano schifo soprattutto nelle west no? e quello è vero ha gente mo crasha vanno tossate vanno e se cagarmi il vittimismo c'è basta con sti dos si è server de merda come lo succede sui dos è in gombrotto gli illuminati gli illuminati gombrotto olè mamma mia si fai danno per il nascio lo so carichi no questo è un faettone ma papà mia le una le una giustamente divide il pesce con tutti il pesce fare brutto pure questo comunque hai vinto pure sto fight hai vinto pure sto fight mamma mia gli sbagliato è fatta ragazzi fallo esplodere vabbè è stato bello comunque un bel fight monoparte solo da un lato da un verso però dai ma perché non mi metto a fare scommesse di classe ma mi sa che vinci perché o sei fortunato o ci vedi bene non capisco lo so io però ti giuro pure al brood time qualsiasi squadra tifo vince vabbè c'è qualcosa che non mi guarda secondo me c'è qualcosa che non va neanche a me eh il banno o so io o so io però mi sembra strano raga io pago prima eh indaghi beh rioni nascer andiamoci a prendere il terzo drago ma è così intanto sti 16.000 gold di vantaggio io investirei investiresti si a voglia e qua provano a pusha un pochino i miei il mio bich team bich team ragazzi pure il tifo è morto no io non sono morto era vince ma vince però tanto servirebbe una carica più concreta ragazzo servono più kill come minuto ah ma mi ha vinto e c'è il tifo di sniper mamma mia sei appappato il drago molesto intanto dirai itto mamma mia il drago che sguaita il drago fortissimo pure il drago ci si è messo contro la squadra mia incredibile ma è una gioia nota che nonostante stiano perdendo hai visto come scherzano cioè no invece è la squadra che sta a vincere la scherzata no è la tua squadra che dice comunque si danno dei consigli tecnici come affrontare no però mi piace sto spirito è questo spirito giusto bravissimi ragazzi è una norma non si vince niente se vince solo se vince che è stato entro il video che è una cosa bella penso no ah ma non vinceva una brasiliana una notte con una brasiliana ma ah ma posso andare pure io spero ma eh eh ma adesso li pappa e il mignone della torta ma va via il grab ci prova il mignoncino pusciatemi ragazzi mettetegli in pressione il mignoncino è bello intanto tra di cento minuti tocca sta al lavoro vai così siamo carini siamo carini ragazzi scappa blizzcrack che sei solo scappa cosa guarda termine quantomeno vai finisce il flash flash preventivo il flash del terrore flash del terrore detto bene il terrore quello che stanno portando al team blu a team cooperi quadrati si li chiamano team blu erbiceteam erbiceteam dai il nome che c'hanno papà addirittura il time vignorato sotto torre non è così però la zoria la zoria no mamma mia shivana mamma mia che ultime che ti ha lanciato vabbè lo fa saltare guarda fritz lui lo scappa a tu di vita no 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 mamma mia scappa è paranormale quello che è successo ragazzi arrivano le squadre si sono squilibrate sono squilibrate il PG squadra rossa ve lo direzzi oddio il flash niente vengono se l'è papà oh il flash sul muro vai 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 almeno la dickerri così si è portata a casa questa è fa la bandiera che c'è lì oh oh che pazzo si vivendo oddio è pazzo oddio oddio ragazzi cosa sta succedendo cosa sta succedendo ora abbiamo toccate poi siamo fidanzati siamo fidanzati eeeh che ci va vai così dai vignoranti vai dinosaur ma tu da no si vieni dinosaurs no no finitela che c'è licenza c'è licenza e no salvateci il lavoro salvateci il lavoro ha fatto 40 milioni di partita eh e se fanno a giocare ma mia 20 mila gold di vantaggio ragazzi 20 mila mica spicci ti compri qualcosa con 20 mila gold che tu ci puoi comprare il tuo gioco compri un attico un attimo una pusciatina sta linea che la potate da amici allora sto a pensare ormai dovrebbe eh mamma mia guarda eh torna la regola del buono col deathmatch questo lo copio tutto io esatto è una scena classica secondo me mi appare più il countdown del blu ma ce l'ha proprio neanche nella mappa si si che mi compare c'è visto vedi c'hanno il pallino e il teschietto quello che è loro non c'hanno più c'hanno che è del team rosso è dedicato guarda com'è guarda è sta strada poterà un elicottero poi a cd proprio ce lo siamo fregato eh riguardo in contemporanea la squadra rossa si faceva sia il blu è stato un attimo tutto e due ma ora è diventato grosso però eh non so se serve penso che ormai sia tardi però però se lanciano bene tutti i cc potenzialmente la mia squadra potrebbe ancora vincere no dai ce l'ha la speranza ce l'ha però no no infatti potenzialmente non deve cosa eh 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 tanto tanca il nostro il tuo corchi ma bene è una balla è una balla e mo ballamo billaballa guarda fizz sgamato sgamatissimo è grave ha provato anche il rabale testo non vale si ha grabato un attimo si ha grabato un attimo si 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 Fazzisca che faccia il sognato mamma mia un altro grab attenzione terzo inibito ragazzi Quanta pressione che mette! E' caduto al nord! Oh! Beccosi è morto! Disengage! Bappato! Il fight ignorate! Si viene! No no! Beccosi! Si va bellino Beccosi no! Vai vai vai! Fermatevi! Vai vai vai! Ti fai tutti vai! C'è pure un corchi senza vita! C'è pure un corchi senza vita! C'è pure un corchi senza vita? Ci potete bandarriven tranquillamente? No! Non è vero! Mamma mia che schioppo! Ti è! Ti ha risposto! Io andavo! Ma Diziaak! Oh! Oh! Ma non merita! E' che c'è la rain! Pain! Insegue! Vai vai! Che puoi seguire! Gigi ragazzi! Puoi seguire ma perdiamo qui! Guarda come sono sportive si scrivono Gigi! Gigi! Gigi a tutti i team! Ragazzi! Questo follow quest match termina qui! Vi ringrazio ragazzi per aver partecipato per essere stati tranquilli! Non hanno flammato se sono divertiti! Quindi spendete un commento positivo ovviamente sia per la squadra che ha vinto che per la squadra che ha perso! E certo! Perché per me sono stati bravi tutti e dieci! Come abbiamo detto noi difiamo una squadra! Grande spettacolo! Poi! Volemo bene a tutti! Vi ricordo che ogni lunedì uscirà il post per prenotarsi per questa rubrica! Il giovedì registriamo! E il venerdì alle 2 troverete la rubrica up sul canale! Bella a tutti ragazzi! Ci vediamo al prossimo video! Bella! Ciao!